Sono Nicola Cacco, Industrial Designer. Mi occupo di progettare nuovi prodotti. La collaborazione con Marte Design è nata per un caso fortuito presso un fornitore. Ci siamo ritrovati e da lì è nato un sodalizio per la collaborazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. Per Marte Design ho progettato la collezione Nami, la collezione di divani Cubot, i tavolini sostenuto. Mi ritrovo con Marte Design per l'animo e la scoperta, la dedizione nello sviluppo di progetti che valorizzano lo spazio dove vengono collocati. I nuovi progetti che faranno parte di Marte Design nella sezione acustica saranno dei pannelli fonosorbenti e decorativi che andranno a svilupparsi in diverse situazioni con diversi materiali. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!